I veri rapporti sono costruiti sull'amore, non sul sangue, ma sulla capacità di amare e di lasciarsi amare, perché Matt Vey aveva bisogno di questo, non era abituato, lui non era abituato nemmeno ad essere abbracciato, era abituato solo a difendersi. La sua prima reazione era di difesa, poi piano piano, come una neve che si è sciolta, poi è diventato affettuosissimo, come se non fosse stato abituato nemmeno alle coccole, all'affetto. A dicembre 2014 arrivò per la prima volta Matt Vey, era uno scriccioletto di 7 anni, non conosceva la lingua, quindi diciamo che i primi 15 giorni furono un'altalena tra momenti d'affetto, momenti di rabbia, perché parliamo di bambini che provengono da situazioni di abbandono, sono posti freddi in cui questi bambini sono dei numeri, nel senso che non hanno un loro nucleo familiare, sono come dei soldatini che stanno lì in istituto, lo Stato si prende cura di loro come se ne può prendere cura uno Stato, chiaramente, non come lo può fare una famiglia. È da un anno che questi bambini sono fermi in Bielorussia e non possono ricongiungersi alle loro famiglie. Molti di questi bambini, tantissimi, che arrivano in Italia, considerano, essendo la maggior parte orfani sociali, le loro famiglie italiane come la loro famiglia, per cui per loro venire per quattro mesi all'anno, perché loro vengono un mese a Natale e poi tre mesi estivi, è di fondamentale importanza e purtroppo le accoglienze si sono interrotte al gennaio 2020. Vengono in Italia anche per motivi terapeutici, perché alcuni hanno dei problemi e vengono seguiti dalle famiglie italiane, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Loro non riescono a capire il perché di questo distacco così prolungato. Per me Matt Vey è il mio terzo figlio, per cui non c'è differenza rispetto agli altri. La grande differenza è la distanza che dobbiamo cercare in tutti i modi di eliminare. Il protocollo sanitario che consentirebbe ai bambini di arrivare in totale sicurezza è bloccato alla firma del ministro Speranza. Ormai Matt Vey è cresciuto a 13 anni. La prima cosa che chiede quando parliamo è che allora vengo, vengo quest'estate, hanno firmato. Cioè io vorrei e noi vorremmo che le persone preposte a decidere capissero che importanza ha per questi ragazzi ricongiungersi alle loro famiglie. Lui mi chiama mamma e diciamo che è stato per me forse uno dei momenti più emozionanti della mia vita perché è successo la prima volta che lui è venuto in Italia e dopo 15 giorni io ebbi qualche linea di febbre per cui ero a letto e lui era preoccupatissimo. Io credo perché lui si stava cominciando a legare a me e quindi ebbe come una paura irrazionale insomma di perdermi e chiedeva insomma a mio marito di portarmi qualcosa da mangiare perché mi vedeva a letto e a un certo punto prese un uovo crudo dal frigorifero e lo mise tra le manine, era proprio piccolissimo e venne vicino a me nel letto e disse mamma mangi perché non sapeva ancora dire mangia ma fu la prima volta che mi chiamò mamma e per me è stata un'emozione grandissima. Da quella volta in poi insomma ovviamente mi ha continuato a chiamare mamma e io mi sento sua madre a tutti gli effetti. Un po' il nostro affetto, poi la vicinanza dei miei figli che avevano la sua stessa età quindi attraverso il gioco l'amore si è creato io penso diciamo abbastanza rapidamente un filo che tuttora ci lega in maniera indissolubile ormai sono passati sette anni. Per Matt Vey come per gli altri bambini quando arriva qui per lui il posto più bello del mondo è casa sua, avere una casa sua avere la sua stanza, i suoi genitori, i suoi fratelli e poi è chiaro che avendo una carenza affettiva e trovandola nella generosità di tante famiglie italiane che hanno aperto le loro case, le loro braccia è normale che immaginino un loro futuro qui e che per loro, anche per quelli che non devono essere adottati ma vengono soltanto in accoglienza è fondamentale per loro riunirsi alla loro famiglia. C'è questo aspetto bello da sottolineare da parte dell'Italia questa grande generosità perché davvero sono tante le famiglie che hanno aperto le loro case a questi bambini al di là di quelle che poi hanno deciso di adottare o meno e ogni volta che andiamo in aeroporto a prenderli c'è uno stuolo di famiglie che accoglie questi minori e la cosa più bella è vedere questi abbracci che purtroppo sono stati interrotti dall'epidemia. Avevamo intrapreso insieme a tante altre famiglie italiane nella nostra situazione questa battaglia per poterli adottare e poi è arrivato il Covid che ha rallentato tutto non solo le adozioni ma soprattutto le accoglienze la situazione anche epidemiologica sembra migliorato almeno c'è la possibilità di farli venire in sicurezza perché addirittura il direttore della Belavia che è la compagnia di bandiera a Bielorussa ha proposto la possibilità di organizzare dei voli Covid free quindi volerebbero in sicurezza e poi le famiglie italiane chiaramente si prenderebbero tutte le responsabilità per farli stare qui in sicurezza per farli ripartire in sicurezza per fortuna Matvei è molto ottimista quindi dice mamma ma tanto ce la facciamo tanto vengo diciamo che è una speranza che lo sorregge lui è stato sempre così da quando era piccolo quasi a volte ho noto che ha paura di chiedermelo perché si aspetta questa risposta positiva io spero che gli possa dare una bella notizia e che possa festeggiare perché per loro è veramente una questione di non so spiegare nel senso che la sua vita è cadenzata proprio su questi momenti quando lui viene in Italia per lui il suo futuro è qui quindi è una sofferenza veramente stare separati e quindi i tre mesi che sono un periodo lungo per lui erano diciamo determinanti per lui come per tutti gli altri noi stiamo spingendo perché oggettivamente non ne vediamo grossi ostacoli a questo punto quindi speriamo che sia presa in considerazione immagino che in un periodo pandemico il ministro della salute possa avere tantissime incombenze e pensieri però anche questi bambini ne meritano uno anzi meritano l'attenzione la giusta attenzione insomma perché basta veramente poco adesso per farli arrivare io chiedo a nome della mia famiglia e di tutte le famiglie che aspettano di abbracciare questi bambini chiedo a Gran Voce che venga firmato questo protocollo sanitario che permetterà finalmente a tutti questi bambini di riabbracciare le loro famiglie italiane e dico anche facciamo presto perché abbiamo dei tempi stretti per consentire loro di stare qui quanto più tempo possibile